Spinta verso la ringhiera del balcone afferrata con forza al collo. Un tentato femminicidio che si è consumato nella notte del 13 ottobre a seguito di una lite avvenuta tra le mura domestiche per cui sono intervenuti i carabinieri. I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un cittadino romeno di 39 anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio della moglie convivente, anch'esso una cittadina romena di 36 anni. Il fatto è avvenuto nella nottata di domenica, intorno alle 2, all'interno dell'abitazione familiare della coppia, sita nel comune di Mussolente appunto, quando l'uomo in stato di alterazione e all'esito di una discussione per motivi di gelosia, dopo aver spinto con forza la donna sul balcone dell'abitazione, l'ha afferrata con forza per il collo e ha tentato di farla cadere, di spingerla nel vuoto al di là della ringhiera. Providenziale l'intervento della figlia minorenne della coppia che svegliata dal trambusto e uscita in balcone, a quel punto l'uomo ha lasciato la presa andandosene dall'abitazione per poi rincasare dopo una ventina di minuti, dove ad attenderlo erano già presenti i carabinieri allertati dalla giovane che l'hanno condotto in caserma per gli accertamenti. La donna è stata invece portata in ospedale, medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni. L'immediata predisposizione di un'articolata attività investigativa coordinata anche dalla procura di Vicenza ha permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, di acquisire la denuncia querela da parte della donna e le sommarie informazioni da parte della ragazza e quindi raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, che per questo è stato dichiarato in stato d'arresto e tradotto presso la casa circondariale di Vicenza in attesa della convalida che poi si è tenuta nella mattinata di martedì, all'esito della quale il giudice convalidato l'arresto ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza di genere registrato nel Vicentino, i cui dati forniti dal comando provinciale parlano di tre denunce al giorno da codice rosso, di cui l'invito alle donne a non sottovalutare nessun segnale. La strada migliore è sempre quella di rivolgersi alle forze dell'ordine, noi siamo proprio preparati per questo, se vedete che avete modificato le vostre abitudini giornaliere, se qualcuno vi controlla, se vi supervisiona, anche questo è un tipo di violenza e non sottovalutate nessun atteggiamento molesto, perché potrebbe risultare poi in una escalation di violenze che è imprevedibile. L'invito è sempre lo stesso, denunciate.